L'azione dei passi si parte con la destra, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, cia cia cia, 1, 2, cia cia cia, cia cia cia, cia 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 e cia 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 laterale Quindi faremo 3 cia 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 dritti, il quarto andremo in laterale per ripartire da capo, quindi si riparte da capo via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, cia cia cia, cia cia cia, cia 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 e il quarto laterale e si riparte da capo Facilissimo, ora lo vedremo con la musica 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 Tu bailando, you're dancing all the night 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 Tu bailando, you're dancing all the night